Le bollette sono aumentate 7-8 volte di più rispetto al 2021 e questi costi non riusciamo più a reggerli, a sostenerli. Questo il risultato del caro energia sul distretto tessile di Prato, macchinari spenti per i dipendenti. In futuro lo spettro della cassa integrazione, mentre gli imprenditori rischiano di non riuscire a soddisfare tempistiche e produzioni decise insieme ai clienti mesi fa, quando ancora il caro energia era solo che un'ipotesi. Ora noi ai nostri dipendenti stiamo dando le ferie, però al punto che quando finiranno le ferie toccherà ricorrere anche alla cassa integrazione. E in 50 anni di storia noi non siamo mai ricorsi a questa cosa, neanche in tempi di Covid. Ma non solo, il problema viene dato anche ai nostri clienti perché abbiamo ordini e consegne prestabilite e queste consegne non siamo neanche più in grado di mantenerle. Noi chiediamo una risoluzione, almeno una parte di una risoluzione di questi aumenti nel breve tempo perché la nostra filiera già ha perso molti pezzi negli anni scorsi e così facendo si rischia proprio di chiudere tutti qui.